... Abbiamo 18 chilometri di spiaggia e io non capisco come mai Tutte le amministrazioni non si riesce a puntare su questo tipo di turismo Quando realmente in estate la ricchezza, anzi porta ricchezza, porta benessere alla città Porta benessere al territorio e non si investe in questi 18 chilometri di spiaggia Che secondo il sottoscritto e secondo noi di Libertà Popolare è la prima cosa che faremo se saremo a Palazzo Noi a Scicli abbiamo quattro feste importanti perché Scicli è ricca di uomini, di donne e di giovani Che realmente hanno voglia di organizzare Quindi come stavo dicendo a queste quattro feste che abbiamo basterebbe allungarle Aggiungere tanti altri eventi che si possono organizzare perché il territorio sciclitano lo permette E quindi dico 365 giorni l'anno Scicli dovrebbe vivere sia di turismo culturale sia di turismo sbagliare Ma soprattutto abbiamo una parte fondamentale che non dobbiamo dimenticare che è il commercio di Scicli A Scicli è pieno di commercianti, è pieno di imprenditori che vogliono investire Gente naturalmente che viene anche da altre zone a poter investire nel nostro territorio Questo cosa vuol dire? Che il territorio di Scicli è talmente ricco e talmente importante Che poi chi viene ad investire qua trova un'amministrazione assente Trova un'amministrazione che chiude le porte Un'amministrazione che realmente non dà spazio per poter investire e poter arricchire ancora di più la nostra zona E quello che realmente noi vogliamo fare di libertà popolare se saremo a Palazzo Sono delle prime cose quelle da fare Ossia dare a chi vuole investire a Scicli le opportunità che il territorio permette Ossia dare a chi vuole investire a Scicli le opportunità che il territorio permette